Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico in verità regolare su tutta la rete autostradale toscana in Pipilì. Si segnala comunque che sulla 1 Panoramica è chiuso per lavori fino alle 18 di domani il tratto tra Aglio e Pian del Voglio in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia invece proseguono i lavori con scambi di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano in direzione nord e tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita in direzione Perugia. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze, si segnalano possibili disagi a causa di un incidente in Viale Aleardo-Aleardi all'altezza del Civico 28. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!